La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News. Andiamo a sfogliare le pagine del quotidiano il mattino. Partiamo dalla prima pagina, si parla dell'inchiesta che ha coinvolto anche alcuni esponenti politici, un'inchiesta che vede ancora una volta la politica legata alla camorra. Vediamo infatti il titolo con i 66 arresti che si sono registrati nella giornata di ieri a Caserta. Vediamo la retata dei colletti bianchi, appalti truccati e favori ai clan, 66 arrestati. C'è anche l'ex assessore sommese, coinvolti docenti e faccendieri ai domiciliari in Marrama, presidente della Fondazione Banco di Napoli. Continuiamo con questo tema, vediamo i verbali, 5 mila euro ai tecnici, pure troppi. E poi la riflessione eclisse di Stato, l'unico orizzonte è giudiziario. Cambiamo argomento, parliamo di politica, ma di politica estera. Ieri le elezioni in Olanda, vincono i liberali. Vediamo l'Olanda, i liberali fermano la destra, Ruth vince, ma perde 10 seggi, exit polli. I populisti di Wilders non sfondano. E poi il commento, la rivincita dell'ideologia. Andiamo a centropagina. Il caso Romeo, favori a Romeo, blitz in tribunale. Il Senato boccia la mozione di sfiducia a Lotti. Il ministro, io all'agonia, da me nessuna fuga di notizie. Si è indagato un dirigente tecnico, IPM, fatture sbloccate in cambio dell'assunzione della figlia. E poi è arrivata la sentenza Petroli, riconosciuta l'aggravante mafiosa, estorsione, 7 anni a Cosentino. Mentre nell'intervento l'ingiusto processo passa con la fiducia per giochi elettorali. Questo nell'analisi per quanto riguarda la votazione in Senato per la sfiducia al ministro Lotti. Cambiamo argomento, ci spostiamo ancora di fondo. L'economia americana cresce, la Fed alza i tassi di interesse. Questo è il punto dopo le elezioni di Trump a un mese e mezzo, quasi due mesi, dall'insediamento del nuovo presidente. Andiamo di taglio basso. Bando della Procura, cercasi famiglia per cuccioli dei trafficanti. E poi l'inserto insieme al mattino, grandi firme per i 125 anni del mattino che è stato festeggiato nei giorni scorsi. Cambiamo, lasciamo questa prima pagina, andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo visto in questa prima pagina. Vediamo, partendo dall'inchiesta sugli appalti truccati che ancora una volta vedono coinvolta la politica. Vediamo, tangenti e appalti truccati, prof e politici aiutavano i clan. 30 in carcere, 36 ai domiciliari, c'è anche l'ex assessore sommese. La Camorra, quattro faccendieri coinvolti nelle indagini ritenute vicini alla cosca dei Casalesi. E poi, giù e nipote, la procura consigliere regionale, il tuttofare Antonello sbloccavano i finanziamenti. Gli architetti in manette, ex presidenti dell'ordine di Caserta e Napoli, De Cristoforo e Visone. 18 cantieri nel milino dei PM, lavori per un valore di 20 milioni in mezza campagna. Insomma, un'inchiesta che ha coinvolto e colpito particolarmente la politica con gli arrestati che non avevano uno stesso, che non appartenevano alla stessa idea politica. Quindi comunque diversi partiti coinvolti in questa inchiesta che vede ancora una volta legata la malavita con la politica. Ma lasciamo questo tema, andiamo invece a parlare della politica estera con le elezioni in Olanda. Vediamo, Olanda, primi i liberali di Ruth, non sfonda la destra xenofoba, exit poll, non c'è il ciclone Wilders, bene e verdi, crollo dei laburisti. Questo per le elezioni e poi il tweet di Gentiloni, non exit, la delezione in Olanda per cambiare e rilanciare. Ora impegno comune per rilanciare l'Unione Europea. La svolta, attenzione con i turchi, mano ferma, potrebbero volerci mesi per fermare la coalizione. Intanto, di taglio basso, si parla dell'Europa e del ciclone Trump-May. Trump e May non trascinano l'Europa nella deriva anti-Unione. Politologi tedeschi ottimisti, in Germania il partito alternativo resta al palo. E poi i giovani determinanti le preferenze degli under 18 alla tornata elettorale, boom di ragazzi ai diversi seggi. Lasciamo anche questa pagina, andiamo avanti. Andiamo ora invece a parlare di economia, ma in particolare il tema principale su cui spesso si discute in questi ultimi giorni sono i voucher, si va verso l'abolizione dei voucher dello strumento. Vediamo, voucher, ora si punta all'abolizione. Il governo cerca di disinnescare la mina al referendum. Oggi la scelta. Le reazioni fortemente contrari ai centristi della maggioranza e opposizione. Intanto i dati Istat parlano di inflazione ai massimi da 4 anni, 1,6% a febbraio, ma il carovita colpisce di più al nord e pesa soprattutto sulle famiglie con più figli. Questo per quanto riguarda la pagina dell'economia. Lasciamo il mattino nazionale per andare invece ad approfondire i temi che interessano Salerno e provincia. Partendo dalla prima pagina del mattino di Salerno vediamo il titolo presidi di volta per 900 mila euro in ritardo di anni il pagamento di spettanze accessorie. Situazione assurda. Sul piede di guerra i dirigenti delle scuole salernitane pressing per le coperture con il nuovo contratto. E poi altro tema che interessa anche il Vallo di Diano, la sanità. Partirà a breve il nuovo piano con 13 distretti. Questa è la rete dell'assistenza ridisegnata. Ancora partecipata fumata nera per Intertrade 5 i licenziati. Spostiamoci di fondo. L'inchiesta di Napoli. Blitz, canne appalti, clan e appalti. Salernitani arrestati, tecnici dell'agro nella ferra Mazzette. Tocca anche la provincia di Salerno. L'inchiesta giudiziaria su presunte mazzette, appalti e rapporti con i clan che ha portato all'arresto di 69 persone, tra le quali un ex assessore regionale. Tra i nomi raggiunti da un'ordinanza di custodia e domiciliari, spicca Adele Campanelli, direttrice del Parco archeologico dei Campi Flegrea e per sei anni, dall'ottobre del 2010 fino al giugno 2016, dirigente della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Napoli, soprintendente per le province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. Continuiamo il governatore De Luca con i magistrati, ripuliamo la campania e poi a centropagina, ancora cronaca, Bellizzi in cella con la figlia di quattro mesi, scrive al GIP datela ai nonni, detenuta Bellizzi Irpino, interviene il tribunale, la seconda bimba della donna che ha costretto la dodicenne a prostituirsi. Ancora il dramma, lite in famiglia, poi giù dal balcone, moglie indagata, cade dal balcone dopo una lite con la moglie, si ferisce gravemente, la donna ora è stata denunciata per lesioni, succede a Montegorvino Pugliano. Nella fotonotizia si parla di calcio, di Salernitana, patto a cena con Bollini, mentre a ritaglio basso le storie barricate per Fragigino, non andartene e poi la storia, Uranio e il militare malato ci minacciavano. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno, continuiamo a parlare, a vedere le notizie che interessano la provincia salernitana, tra queste si parla anche delle indennità per i dirigenti scolastici, lo abbiamo visto in prima pagina, lo abbiamo visto in primo piano perché il tema è tra i temi di apertura di questa giornata, vediamo indennità rivolta dei presidi per 900 mila euro, congelata la liquidazione delle spettanze accessorie e dirigenti, situazione paradossale, lo scenario, lo stop si protrae ormai da anni, pressing per l'ok con il nuovo contratto e poi calcinacci nel cortile della Focaccia, tempi lunghi per l'intervento, danni nella sede distaccata dell'istituto in via Urbano II, scatta l'appello alla provincia. Questo per quanto riguarda l'istruzione e la scuola. Ora andiamo invece sulla pagina dedicata alla sanità, vediamo il nuovo piano ASL con i 13 distretti della rete di assistenza, vediamo piano ASL via alla nuova rete di assistenza, i vertici sanitari ridisegnano la mappa per l'utenza, previsti anche 5 ospedali di comunità nell'area sud della provincia di Salerno, divisione in 13 distretti e strutture per anziani, stop ai ricoveri impropri. Andiamo a vedere qual è il punto per quanto riguarda il Vallo di Diano, distretti sanitari, pulcro essenziale dei processi assistenziali, diventa così il distretto sanitario che consentirà all'ospedale di perdere le attuali caratteristiche generalistiche e di diventare sempre più specializzato per la cura delle acuzie, delle urgenze e delle emergenze. Nell'ambito sociale S1 fanno parte i distretti di Nocera, Angri, Sarno e Pagani, vediamo invece per quanto riguarda l'ambito S10, sala Consilina, mentre l'S9 è Sapri. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria invece vediamo l'azienda ipotizza di attivare almeno un'aft pediatrica per ciascun distretto sanitario, l'obiettivo è coprire l'assistenza medica di base. Per quanto riguarda le unità complesse di cure primarie, l'ASL programma l'attivazione di un processo presso l'ospedale di Scafati, uno a Buccino, uno a Salerno, uno a Rocca d'Aspide, uno ad Eboli, ad Agropoli, a Stio, a Palinuro, a Sant'Arsenio e anche a Sala Consilina in via sperimentale. Ancora per quanto riguarda l'ospedale di comunità, come previsto troviamo anche Sant'Arsenio tra i possibili nuovi ospedali di comunità. Lasciamo questa pagina, andiamo ora sulla pagina dedicata alle notizie del Cilento e del Vallo di Diano. Vediamo che si torna a parlare del Parco Nazionale Cilento-Vallo di Diano Alburni dopo la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania di annullare la nomina di ciao a direttore facente funzione dell'ente Parco. Ora si pensa ad un nuovo nome, quindi potrebbe non essere Gregorio, il sindaco di Laurino, ma Alfano. Si pensa infatti anche ad Ernesto Alfano di Buonabitacolo. Vediamo il titolo. Parco Alfano sarà il nuovo direttore, l'attuale responsabile dell'ufficio tecnico dovrebbe prendere il posto di ciao, attesa l'ufficialità della nomina con la firma di Pellegrino alla delibera per il passaggio. Ernesto Alfano di Buonabitacolo è verso la direzione dell'ente, l'attuale responsabile dell'ufficio tecnico prenderà il posto di Giovanni Ciao. Quindi oltre a Gregorio c'è anche responsabile dell'ufficio tecnico tra i possibili candidati alla carica di direttore facente funzione. E poi a Sassano, Raid Vandalico nel centro storico, sfasciate 20 auto ed è allarme. E con questa pagina le notizie che interessano il Vallo di Diano ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa che apriamo con le pagine del quotidiano La Città. Vediamo il titolo di apertura, anche La Città parla della inchiesta della controlla Camorra, i 69 arresti a Caserta. Vediamo appalti truccati, Camorra, Avida, 69 gli arresti. Terremoto politico istituzionale in Campania per 18 gare d'appalto che per la procura conducono i casalesi. Presi l'ex assessore sommese, l'ex soprintendente Campanelli e il presidente della Fondazione Banco di Napoli. Questi tra gli arrestati. Andiamo avanti. La tragedia di Palinuro, grotta killer sequestrata. Il magistrato vuole approfondire le indagini sulla morte dei tre sub Cambardella, Tancredi e Anzola che rimasero intrappolati nel cunicolo da scorsa estate. Andiamo nei box in alto. Caso Consip, mozione di sfiducia respinta con 161 no. Lotti a testa alta. E poi nel mirino dirigenti Aslo, Roma, sanità corrotta, carcere per nove, indagato Angelucci. E ancora si parla dei voucher e le polemiche in vista di un eventuale referendum. Vediamo manovre per evitare il referendum. I sindacati chiamateci. Andiamo avanti. Continuiamo su questa prima pagina del quotidiano. La città, processo carburante, altri sette anni a Cosentino di fondo. Mentre per le notizie di spalla la cronaca Matteo Russo da giovedì non dà notizie e arriva la sua storia a chi l'ha visto. Ancora lì di insicuri, non ci saranno bandi. Quasi tutte le spiagge del comune di Salerno resteranno libere. Poi dall'Arpa e Sorvino il nuovo commissario. Di taglio basso parliamo della Salernitana in vista del prossimo appuntamento del posticipo di lunedì sera contro Lentella. Vediamo come si sta preparando la squadra della Salernitana. I Granata mostrano i muscoli. Bollini, Sceglie, Ogerre e Minala per rinforzare il centrocampo. Queste le possibili scelte del tecnico. Continuiamo. Pronostici vi aiuto a perdere. Ecco le gare da giocare. Questa è la prima pagina del quotidiano. la città continuiamo a sfogliare questo quotidiano. Andiamo sulle pagine di primo piano. Parliamo proprio dell'inchiesta che ha coinvolto politica, che vede ancora una volta la politica con i clan della malavita. In questo caso la Camorra, 69 gli arresti. Lo abbiamo visto. Vediamo appalti e clan, scacco a politici e funzionari. Questo è il titolo per la città. 30 persone in carcere, 36 agli arresti domiciliari. C'è anche Sommese. L'ex assessore regionale colto da Malore si professa innocente. Coinvolti anche l'ex soprintendente archeologica di Salerno, Adele Campanelli, l'ex sindaco di Pompei Claudio D'Alessio, l'ex consigliere regionale Angelo Consoli. Guglielmo Lareggina era colluso con il clan dei Casalesi. Nel suo studio privato venivano redatti i bandi di gara poi trasmessi all'ente committente. E vediamo ancora il sistema collaudato a Scafati, la conversazione intercettata e il progetto per la costruzione del polo scolastico. Questo per quanto riguarda questa nuova inchiesta che ha visto protagonista Caserta e alcuni del clan della Camorra. Mentre per quanto riguarda invece le notizie del Cilento e del Vallo di Diano quindi lasciamo la cronaca, vediamo quali sono i principali temi che interessano il nostro territorio. Partiamo dal caso della grotta a Palinuro dove è perso la vita a tre sub. Il caso, la tragedia si è verificata la scorsa estate. Vediamo quali sono le novità in merito all'inchiesta. Vediamo sub annegati a Palinuro, il PM sequestra la grotta. Un approfondimento degli indagi sulla morte di Cammardella, Tancredi e Anzola. La tragedia avvenne il 19 agosto scorso. I tre amici rimasero bloccati nel cunicolo. È stata sequestrata ieri mattina dalla Capitaneria di Porto la grotta di Scaletta di Capo Palinuro dove persero la vita lo scorso anno i sub Mauro Cammardella e Mauro Tancredi entrambi di Palinuro e il milanese Silvio Anzola. Andiamo avanti. L'ancora cronaca a Sassano. La scorsa notte, la scorsa ieri mattina i residenti nel centro storico hanno trovato le loro auto completamente distrutte e con gli pneumatici tagliati. Vediamo l'articolo. Sassano danneggiate 30 auto in sosta e i carabinieri cercano i video. Circa 30 auto nella notte tra martedì e mercoledì sono state danneggiate in diverse zone del paese. I vandali hanno preso di mira in particolar modo le auto in sosta nel centro storico. Le vetture erano parcheggiate tra Piazza Umberto I, Largo Piaggio, località Sant'Antonio e nel nuovo parcheggio inaugurato qualche settimana fa. I vandali, per il puro gusto di arrecare ondano, si sono accaniti contro le auto infrangendo vetri, bucando gli pneumatici e danneggiando le carrozzerie. Andiamo avanti. Centro pagina. Camerota. Nominati nuovi assessori. L'opposizione passa all'attacco. Mentre Vallo della Lucania rifaremo la delibera antipalude. Edilizia nel parco. Pellegrino replica alla bocciatura del Ministero. Di taglio basso, Petina, Giuleco Mostro costerà 30 mila euro. Mentre a Caggiano, Olio Bio vince l'azienda dei Raimondo. Queste per quanto riguarda le notizie del Vallo di Diano e del Cilento. Ora andiamo sulle pagine sportive con cui chiudiamo il quotidiano La Città. Vediamo la Salernitana in vista del posticipo contro l'Entella di lunedì prossimo in serata. Vediamo Potere Nero. Salernitana pronta alla diga. Ogere Minara rinforzeranno la mediana. Chiavari e Ronaldo recupera. Bussellato fermo della Rocca non è al top. Per il posticipo di lunedì sera si va verso un centrocampo tutto straniero. Zito rifiata. E continuiamo di taglio basso, Spauracchio e Entella, attenti alla porta. Lo scorso anno due delusioni provocate dalle papere di Stracoscia e Terracciano. Chiudiamo con lo sport, le pagine del quotidiano La Città. Andiamo ora invece a sfogliare le cronache. Vediamo il titolo di apertura. Anche le cronache apre con l'inchiesta per gli appalti pubblici truccati che vede coinvolta ancora una volta la politica e la camorra. Vediamo il titolo. Mazzetta di 50 mila euro a Pasquale Sommese. In carcere il consigliere regionale di nuovo centrodestra che mollò Caldoro per avere un assessore da De Luca. E il suo factotum, Antonello Sommese, a capo Guglielmo La Regina. I rapporti con il boss Zagaria. Campania, appalti truccati, 69 arresti, un terremoto giudiziario che ha sconvolto la politica e il mondo dell'imprenditoria. Andiamo avanti. Ancora il caso di Pompei. Scuote la campagna elettorale. Arrestato l'ex sindaco D'Alessio per l'appalto al cimitero. L'impianto di cremazione nel mirino del boss Zagaria. Domiciliari anche per il dirigente dell'ufficio tecnico Andrea Annunziata. Ha indagato anche l'ex assessore Vincenzo Manocchio. A Cava dei Tireni, caso Coffi, ma ora indaga la Corte dei Conti. Mentre a Battipaglia, per l'ospedale, causa ginecologia dopo la chiusura a Eboli, esposto del sindacato. A Salerno, assunzioni disabili al comune, bando errato. Mentre a Ponte Cagnano, così a Tanasio, faceva affari con la ESA degli esposito. Lasciamo questa prima pagina. Andiamo sulla pagina delle notizie provenienti dalla parte sud della provincia di Salerno. Che apre con una notizia di Camerota. Crisi amministrativa rientrata. Romano nomina due assessori. Entrano in giunta Fernando Cammarano e Giuseppe Calicchio. No a un vice sindaco. Dopo l'allontanamento di due ex assessori, scongiurata l'ipotesi del tutti dentro. E poi Capaccio Pestum, recuperati i PC rubati a Battipaglia, 22enne denunciati. A Vallo della Lucania, Parco del Cilento, il presidente della comunità ha indennizi per danni. Non sono aiuti di Stato. Salvatore Iannuzzi ha scritto una lettera al ministro Galletti. Mentre a Sassano, vandali nella notte, distrutte molte auto nel centro storico. A causa delle fiamme degli ultimi giorni sono saltate linee telefoniche ed internet laureana. E su queste pagine di Le Cronache termina la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro Tg. Grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata.